Sono contento, sono contento anche se l'ultima puntata effettivamente avevo un po' di tensione perché c'era tanta elettricità nell'aria Io personalmente da piccolo mi ricordo che volevo fare delle cose assurde Bollarolo, volevo cucinare i polli da piccolo, l'astronauta, il pittore e il pilota da aerei Perché essere straordinari quando possiamo essere noi stessi? Io con questo vi saluto e mando la buonanotte a tutti quanti Perché? Perché A Tu Per Go finisce qua Forse Adesso vediamo un pochino appena si riprende No, 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 è ormai ufficiale, cioè non si fa più nulla Te lo volevo dire Sono contento Non è andato benissimo questo programma Mi mancherà la radio per tutta l'estate No, no, per tutta la vita Ragazzi Non è come credete Ok Ok Questo è per te La panna di tutta la chance che non sei riuscito a praticamente calcolare E anche il bambino d'oro E anche il bambino d'oro Con la doccia qui è un bambino Che sta dicendo delle menzogne Nel bambino d'oro E' il guglielmo nell'armadio Col dacchino intelligente, la sciacquetta e l'insalata In diretta a tutti su Radio DJ